30-40 secondi, bevo, mando giù, ho fatto. L'ultimo blocco, e ci siamo, sì. Bentornati in studio, approfondiamo ora le notizie legate alla Capitale, sulla cronaca di Roma, l'inserto del Corriere della Sera, Olimpiade, in aula l'ultimo scontro, oggi il Comune decide sulla candidatura, i big del comitato promotore tra il pubblico. Roma 2024, voto segreto e blitz per bloccare il Consiglio e il tentativo disperato delle opposizioni per arrivare al sì. Oggi il giorno del giudizio su Roma 2024, alle 9 inizia in Campidoglio il Consiglio Comunale straordinario sulla mozione della candidatura di Roma ai giochi 2024. Il no di raggi è arrivato la scorsa settimana. Stamani i consiglieri votano per la ratifica che porta all'allunlamento della delibera Marino il 25 giugno 2015. E quindi al naufragio del progetto olimpico delle CONI. In teoria la partita è già chiusa, i consiglieri del Movimento 5 Stelle sono 29 su 48, ma colpi di scena non sono esclusi. Bianchedi e pancali del comitato promotore Roma 2024 saranno in platea e dopo un blitz dell'opposizione potrebbero riuscire a fare un ultimo appello ai consiglieri per salvare il progetto. E ancora il caso ad Ostia, no alla maratona, motivazione sciocca e strada con troppe buche. Niente maratonina ad Ostia, troppe buche nelle strade. Il decimo municipio ha negato l'autorizzazione alla 30 del mare di Roma che doveva svolgersi il 9 ottobre. Lo stop alla gara a cui ogni anno partecipano oltre mille atleti è arrivato in extremis dagli uffici tecnici del municipio. Commissariato per mafia lo scorso anno e oggi guidato dalla commissione prefettizia. E ancora allerta terrorismo, scritta IS su un aereo fiumicino, scatta l'allarme. Il jet è fermato a terra, artificieri in azione. E quindi allerta terrorismo ieri nell'aeroporto di fiumicino per la sigla IS scoperta sulla carlinga di un aereo della compagnia Welling diretto a Fuerteventura in Spagna con partenza alle 7 di mattina. La scritta è stata notata dal comandante durante l'ispezione di routine prevolo. Il mezzo era atterrato martedì sera da Madrid e immediate sono scattate le procedure di sicurezza. Il velivolo è stato isolato e i passeggeri subito evacuati. Quindi sono intervenuti gli artificieri e le squadre cinofile per ispezionare l'apparecchio. Le operazioni sono durate 4 ore e tutti i controlli hanno dato esito negativo. Nel frattempo i passeggeri erano stati spostati su un altro aereo, quello delle 9.45 per le Canarie. E ancora giovane si appende al corrimano Potenzione. Una foto sul tram riaccende le speranze. E' lui. Stavolta invece della telefonata è arrivata una foto che ha riacceso le speranze dei familiari di Daniele Potenzioni. Il giovane autistico scomparso il 10 giugno 2015. E poi a centropagina unioni civili. Rito a novembre. Ieri la prova smoking. Lidia e Laura. L'amore celebrato a 70 anni. Il 23 novembre è attesa la cerimonia. La loro unione civile a Santa Maria in Tempolo. La chiesa sconsacrata alle terme di Caracalla. Ieri la prova degli abiti in un atelier di Pavona. Smoking bianco per entrambi. E poi al Flaminio schiaffi e calci ad un ragazzo gay. Scendiamo in taglio basso. Tino e gli altri gatti ancora tra le macerie. Ponte Emilio dopo il crollo del palazzo. L'appello dei padroni. Fateci entrare per salvarli. Martino e gli altri gatti. Piccola, Pippi e tre fratelli Nerina e Grigina potrebbero nascondersi sotto il letto. Spera la loro padrona Ilaria che dalla notte del crollo non si dà pace. Quando collasserà o demoliranno anche l'altra ala della palazzina. Loro che fine faranno? Ponte Emilio, Palazzo Crollato. Più di qualcuno tra chi abitava l'asta chierano di rientrare e di poter fare un tentativo di accesso. E poi la scomparsa. Simone Carella è il grande irregolare. Oggi al Teatro India all'ultimo saluto. Simone Carella, protagonista della stagione più fertile del teatro d'avanguardia romano. E non solo scopritore di nuovi talenti. Il grande irregolare della scena contemporanea si è spento nella notte tra martedì e mercoledì. Oggi dalle 11 alle 16 l'ultimo saluto al Teatro India. Con Ulisse Benedetti al mitico Beat creò una fucina di creatività declinata in spettacoli che appartengono alla storia del teatro. Dalle 120 giornate di Sodoma di Giuliano Basilico a Pirandello Chi di Meme Perlini. Dopo questa notizia ci spostiamo sul web per leggere insieme gli altri aggiornamenti che riguardano la capitale. C'è stata una svolta nel giallo dell'avvocatessa trovata morta, riesumata la salma, l'assassino. Potrebbe essere il compagno. Un caso irrisolto, un imputato assolto in primo grado dall'accusa di omicidio. Ma ora a rischio, condanna in appello. E soprattutto il cadavere di una donna, riesumato a distanza di sei anni dal decesso per chiarire se, mentre era in dolce attesa, la vittima sia stata stroncata da un male fulminante o sia stata invece uccisa dal compagno. E ancora a Roma, un altro caso di cronaca, sgominata la banda della droga al quarticiolo. 12 arresti. Le dosi consegnate anche a domicilio. È in corso dalle prime luci dell'alba un'operazione antidroga condotta dai carabinieri della Compagnia Roma-Casilina per dare esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP e del Tribunale Ordinario di quello dei minori di Roma nei confronti di 12 persone, tra cui minorenni appartenenti a un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico radicata a Roma, che aveva stabilito la propria roccaforte nella zona del Quarticciolo. I vertici dell'organizzazione avevano assegnato precisi compiti e turni di lavoro ai pusher, che smerciavano droga tra i viottoli e i giardini dei cosiddetti lotti, mentre giovani vedette equipaggiate con telefoni cellulari davano l'allarme in caso dell'arrivo delle forze dell'ordine. La banda gestiva anche una serie di veicoli intestati a prestanome, con cui organizzavano consegne di droga a domicilio ai clienti più affezionati. In caso di arresto l'organizzazione garantiva tutela legale, accollandosi le spese legali e processuali. Nel corso delle indagini è stato individuato anche un ristorante dove l'organizzazione aveva stabilito la propria mensa di servizio e da dove partiva anche il cibo destinato ai membri dell'organizzazione, ristretti ai domiciliari. E ancora raccordo anulare da oggi a sabato, chiusure notturne, la mappa delle interruzioni, il grande raccordo anulare, attenzione alle chiusure notturne. Per completare i lavori di pavimentazione, l'ANAS ha disposto la chiusura notturna delle complanare interna nel tratto a servizio delle uscite Roma-Fiumicino, via della Magliana, via della Pisana e via del Pescaccio. I lavori si svolgeranno tra le 22 e le 6, dal 15 giovedì 20 settembre a sabato 1 ottobre. Proseguono i lavori dell'ANAS per il risanamento del piano viabile sul grande raccordo anulare di Roma in orario notturno. E ancora Roma paralisi nei conti di bilancio, già persi 48 milioni per le scuole. L'assessore al bilancio non c'è ancora e a un mese da l'addio di Marcello Minenna con deleghe di programmazione economica e finanziaria formalmente affidate a Virginia Raggi ma di fatto prive di guida. E questa volta a farne le spese sono le scuole comunali, asili nido, materne, elementari e medie che entro il 31 dicembre 2016, come prevede un decreto ministeriale, avrebbero dovuto obbligatoriamente essere sottoposte a lavori di manutenzione straordinaria. Dopo questa notizia ci spostiamo sull'inserto che riguarda la capitale, l'inserto della Repubblica e anche qui in apertura il titolo Raggi tiene il bilancio e punta sul casting per i nuovi assessori. Un'altra grana per la sindaca che prende l'interim, si dimette il ragioniere generale e oggi si vota la mozione che cancella le Olimpiadi ma è scontro in Campidoglio. La domanda è, con il voto di oggi in Campidoglio si chiuderà definitivamente la Corsa di Roma verso le Olimpiadi del 2024. In Comune la maggioranza è convinta di sì. Stamattina l'aula Giulio Cesare sarà chiamata a votare la mozione del Movimento 5 Stelle che impegna la sindaca Virginia Raggi a ritirare la candidatura di Roma ai giochi che verranno assegnati ufficialmente nel settembre 2017 a Lima, in Peru. Un atto figlio dell'annuncio di mercoledì scorso, quando la prima cittadina durante una conferenza stampa comunicò la sua decisione. Non credo che i consiglieri comunali di Roma l'abbiano apprezzato particolarmente, è convinta Diana Bianchetti, coordinatrice del Comitato per Roma 2024. L'organismo, insieme al CONI, che ufficialmente non ha ancora perso le speranze. Per loro il voto di oggi potrebbe non rappresentare la pietra tombale sulla candidatura ai giochi. E poi in Commissione al Senato, GAF della prima cittadina, legge la carta dei giochi del 99. E un nuovo caso di cronaca, nuova aggressione, allarme omofobia. Il ragazzo picchiato a Piazzale Flaminio, ha aggredito un ragazzo nei dintorni di Piazzale Flaminio da tre giovani che lo hanno strattonato e preso a calci e schiaffi, seguiti da insulti e minacci. Voi gay dovete fare tutti la stessa fine, quelli che incontreremo la faranno. Queste le parole. Poi l'intervento di alcuni passanti ha bloccato e messo in fuga gli assalitori. Il livello di omofobia di Roma sta diventando inaccettabile, ha detto il portavoce di Gay Center Fabrizio Marrazzo. E poi la protesta. Mercato invaso dai rifiuti, serrata dai commercianti, denunciato l'ottavo municipio ed il provvedimento. La giunta approva quattro domeniche ecologiche, stop alle auto inquinanti. Ancora sondaggio trasporti bocciati da 6 su 10 metro, treni e linee al collasso. Servono subito 255 milioni e poi in taglio basso troppe buche e salta la gara polistica. La denuncia, il comune intervenga subito. Dopo questa notizia il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ringraziamo di essere stati con noi e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti.